Io non sarei così ottimista sul senso che questa sparizione improvvisa, in realtà io credo che sia più funzionale poi a una riapparizione in stile le visioni o le apparizioni così, quelle dove puoi fare una grotta dedicata anche perché ho visto, o meglio adesso non ricordo quale dei fenomeni dei miei colleghi hanno già detto che bisognerà investire sulla vaccinazione per i profughi ucraini, peccato che non abbiano capito che sono ucraini e quindi non sono italiani per cui non credo che l'Ucraino non vaccinato venga in Italia e poi si faccia convincere per cui anche qui però io credo che ci sarà una strumentalizzazione, in questo momento abbiamo, ecco ci tenevo anche a dire una cosa che abbiamo visto in questi due anni il mancato rispetto della Costituzione in quegli aspetti in cui non sarebbe proprio neanche possibile modificarla, quindi sono stati aggrediti i diritti e le libertà costituzionali che non possono essere proprio per norme costituzionali non si sarebbero mai potuti toccare e di pari passo la cosa che mi preoccupa di più è che in questo momento accettando di fornire armi all'Ucraina, penso sia la prima volta che venga, almeno che io ricordi che viene dichiarato che si portano armi in uno Stato che non fa parte della Nato, anche questo atteggiamento avviene in contrasto con quegli articoli della Costituzione che di fatto, poi l'OVAT può confermare, impedirebbero questo tipo di comportamento, quindi se noi prima abbiamo fatto le prove, perché tutte le volte abbiamo detto ma si sono fatte le prove generali e poi c'è stato un escalation nella erosione dei principi fondanti la nostra Costituzione, ora mi pare di intuire, poi non vorrei così adentrarmi in terreni che non sono miei però che c'è addirittura in questo momento il mancato rispetto, mi confondo sempre dall'articolo 10 e 11 della Costituzione ma dell'articolo costituzionale che dice l'Italia ripudia la guerra, se ripudi la guerra però non puoi andare ad armare un altro Stato e come diceva anche Stefano, anche i finanziamenti che si stanno dando sembrano un ulteriore schiaffo agli italiani che come me e lui sono in questa condizione in cui non è che si è perso il lavoro, ci hanno tolto il lavoro.